Le rughe e le occhiaie sotto gli occhi fanno sembrare il nostro viso vecchio e stanco, ma non preoccuparti, questo può essere risolto usando rimedi casalinghi naturali. Ecco una semplice maschera fatta con solo due ingredienti in grado di eliminare rapidamente rughe e occhiaie sotto gli occhi portandoti occhi giovani. Il primo ingrediente è il pomodoro. Preparare un pomodoro e tagliarlo a pezzetti. Scegliere un pomodoro maturo e succoso. Sarai sorpreso di sapere che l'estratto di succo di pomodoro viene aggiunto in varie creme e cosmetici disponibili sul mercato. Questo perché fornisce un incredibile trattamento naturale della pelle che può rendere la pelle più giovane e sana con meno sforzo. Il licopene, un carotenoide che troviamo molto nei pomodori, può proteggere la nostra pelle da racci UV e da altri racci solari dannosi. Il licopene ha anche dimostrato di aumentare la produzione di collagene nella pelle e il collagene è una proteina importante per tenere a bada le rughe. Inoltre i pomodori hanno eccellenti proprietà di sbiancamento naturale che possono schiarire e illuminare la pelle. Queste proprietà dei pomodori funzionano come un fascino per combattere le occhiaie sotto i tuoi occhi. Ora versare il pomodoro in un frullatore. È possibile aggiungere un po' di acqua per una miscelazione più facile. Eseguire in un frullatore e frullare fino a quando il pomodoro diventa liscio. Eseguire in un frullatore. Mettere un collino a rete o un setaccio su una grande ciotola di vetro e versare la purea di pomodoro. Usare un cucchiaio per spremere la purea di pomodoro sul fondo del setaccio per far uscire il succo nella ciotola. Quindi preparare un'altra piccola ciotola e raccogliere due cucchiai di succo di pomodoro. L'ingrediente rimanente di questa ricetta è aloe vera. Tagliare un pezzo di aloe vera con la quantità di circa due cucchiai, quindi rimuovere lo strato verde con un cortello. Riusci a acquare accuratamente il gen di aloe vera con acqua per assicurarsi che sia privo di residui di lattice di aloe vera. che possono irritare la pelle. Dopo inrisci acqua, mettere il gen in un tagliere e tagliarlo. In gen di aloe vera funziona come una magia per quasi tutti i problemi. Gli studi suggeriscono che l'applicazione di gen di aloe sulla pelle sotto gli occhi ridurrà le rughe e aumenterà il collagene nella pelle mantenendola idratata. In gen di aloe vera è buono anche per il trattamento delle occhiaie. Contiene aloesina, un composto che inibisce l'attività di rosinasi. Questo può aiutare a prevenire un'eccessiva pigmentazione nella pelle sotto gli occhi. Può anche idratare la pelle nella zona circostante e renderla elastica. Ora versare in gen di aloe vera tritato nella ciotola di succo di pomodoro. Mescolare bene questi due ingredienti. La tua maschera fatta a casa è pronta. Dopo la preparazione dovresti usare immediatamente questa maschera. Prima dell'applicazione ricordarsi sempre di pulire la pelle. Se la pelle non è pulita, la maschera non funzionerà bene. Basta prendere la maschera sulle dita e applicarla uniformemente sulla pelle sotto gli occhi. Dopo aver applicato, tenerlo sul viso per circa 15 minuti. Quindi sciacquarlo con acqua tiepida. Usare questa maschera da 2 a 3 volte a settimana per ottenere i migliori risultati. Grazie.